A parte le spese la delusione di aver preparato una maratona in 5-6 mesi, questi sono i sacrifici che mediamente una maratonetta fa e si espone anche a un esborso economico non indifferente. Sicuramente è un grande dispiacere perché è una maratona che richiede un particolare impegno, quindi un grande lavoro e poi per quanto mi riguarda io l'ho fatta nel 2005, è un'esperienza meravigliosa, unica e l'atleta si crea grandissime aspettative. Tu sei in contatto con gli atleti cagliaritani che si trovano a New York, cosa ti hanno raccontato? Sicuramente all'inizio erano increduli, c'è molta delusione, poi io dico che bisogna sempre cogliere e vedere il bicchiere mezzo pieno e quindi sicuramente a New York non mancheranno le cose da fare. Il fatto di non partecipare secondo me probabilmente è una grandissima delusione, per me lo sarebbe stato. Mentre i corridori di New York sono un po' delusi, qua a Cagliari si prepara cosa? Si prepara la mezza maratona di Cagliari. È prevista a partire da che ora? Per domenica 4 novembre a partire dalle 9.30 siamo circa 1000 iscritti competitivi, è prevista un'altra distanza da 13 km per il primo anno, è prevista anche la 6 km per i nuovi competitivi e i bimbi correranno in pista.